Per strada c'è chi passeggia e chi si affretta ciascuno con i suoi pensieri, pesanti o leggeri e tu a che pensi? Massimo si inventa un'avventura Annetta ha desideri zuccherati Rosa sta per innamorarsi di Antonio Mattia è semplicemente felice Maria è terribilmente gelosa Elena a volte ha bisogno di stare sola Enrico ha una musichetta in testa Anna si sente triste Lorenzo non vede l'ora che torni l'estate Amir non è ancora uscito del tutto dal sogno Laura evade tra le pagine Luciano si ricorda con tenerezza di quando era piccolo Guglielmo bolle di rabbia Mina sogna una passeggiata in campagna Elvira ha un pensiero per ciascuno Antonio cerca le parole Nicola non pensa a niente Giovanni è preoccupato per il lavoro Ognuno ha i suoi pensieri pesanti o leggeri Perfino io Per strada c'è chi passeggia e chi si affretta Ciascuno con i suoi pensieri pesanti o leggeri E tu a che pensi? Ciascuno con i suoi pensieri Ciascuno con i suoi pensieri Ciascuno con i suoi pensieri